Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi farò un'intervista doppia a Suami Caputo e a Daniel Prima di lasciarvi al video, lasciate like e iscrivetevi al mio canale E attivate la campanella, ciao! Prima domanda, come vi chiamate? Io mi chiamo Suami Io Daniel Seconda domanda, siete innamorati? E chi chi va prima? Sì ovviamente Io? Sì Sei sicura? Sì Sì L'ha detto veramente Devo dire la verità, cioè si deve dire la verità qua Io non l'ho risposto A me non ho ancora risposto E ti ha scritto? E ti ha scritto? Che cos'è? Terza domanda Chi ci ha provato per primo? Suami Io In che modo? Che significa? Che significa? In che modo siamo conosciuti? Sì Ho chi ci ha provato? Allora In che modo vi siete conosciuti? Inizio io? Inizio io Allora Io ho messo una foto Un post Mettendo come descrizione La canzone di Chiama Me Poi sto No 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 Inizio No 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 Sto Come Nella vista Me l'ha commentata Insomma Cioè nelle storie Da lì Come tutti Scontate E iniziate a scrivermi Come scontate Allora Allora Voi dovete Una ragazza Oggettivamente carina Mi tagge In un post Così a caso Mi date il cofione Se le scrivo Vabbè Aspetta Ma ci sta Tagare così Sarebbe Non ti vuole Taggato voi Su qualcun altro Sì 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 Però qual è che Ci siamo visti? Allora Praticamente poi Si è stato deciso Ma ci sto Nella video Praticamente poi Si è stato deciso Che Io l'ho voluta Al videoclip Della mia prima canzone Con Astle E quindi poi L'abbiamo chiamata E lei ha partecipato A questo videoclip Questo è quanto Eccolo Eccolo Vedi Non è ancora finito nulla Stai già lungo È stata la mia rovina Ma adesso Ho capito La mia rovina No no La mia rovina Proprio rovina Quarta domanda La prima volta Che l'hai visto Cosa hai pensato? Ecco Ecco Allora Io ho tutto Me l'ha proprio sceso Tantissimo A parte se la tiravi un monte A parte se la tirava Poi ho detto Vabbè Non è poi così Tanto bello Alla fine Sì infatti Lei mi ha detto Che non mi piacevo manco Che non ti ho visto No Perché a me la gente Che se la tira Poi dopo si è calmato Non è che me l'ha tirato Perché praticamente Per la prima volta Se cosa sto per dire Per la prima volta Ero un po' tipito Un po' Un po' Manco parlato Allora Visto che ero concentrato Per il videoclip Allora sono arrivato là E pensavo solo ed esclusivamente Al videoclip Cioè manco ci ho fatto caso Capito? Eh Non mi ricordo Non è vero L'hai sempre detto Vai vai Io vedi Un pezzo Perché se lo stai facendo No ti giuro Sono un nonno Ti giuro Ho un mondo di memoria Adesso Vai manco io Non ti ricordo Tu non te lo ricordi? Non so se è uno Non l'altro Aspetta il primo bacio Ma vuoi? Ma non è il primo bacio? È meglio non dirlo Perché? Ah ok Sì sì certo Come ricordo In hotel In hotel Eh In hotel Allora praticamente Cosa è successo? Beh niente Hai dormito là Con la notte Che c'eravamo in una stanza Io e te e Aston Hai dormito lì vicino a me Nello stesso letto Sì Mi ricordo Ha dormito affianco a me Allora praticamente Niente Lì ci stuzzicavamo Ogni tag Non era quella notte Era quella notte Ma dormi io più notte insieme Era l'ultima Era l'ultima Era l'ultima notte Sì Eh E tu hai dormito affianco a me Eh Mi dà Mi sono dormita Dovevo fare accanto a te Eravamo C'erano tre letti Un letto matrimoniale E un letto dove stava a Aston No Sì Separato Era quella Che poi ho riuscito comunque Quando siamo baciati Mi dà Che forse ti ricordo No 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 Ok Mi ricordo che era l'ultima sera Era l'ultima sera Era quello Io quello sto dicendo Eh E niente Poi Siamo baciati Ho iniziato a farti con un sorriso No Eh Tu le sorrino Ma Mi sono sorrisi Come ti fa un bacio Scusa È vero Ti ho spettato anche un po' troppo Questa domanda Chi è più bello? Daniel Sempre detto Lei è convinto di questa cosa Che sono io È più bello Della coppia Io mi reputo Un ragazzo bello 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 Oggettivamente Sono una Sono una benza soggettiva Perché per molti Non è che Cioè Può anche capitare Che non sono bello Che magari Mi becco una persona per strada E mi dice Guarda Di me non sei bello È capitato Quindi Per me lei è bella Quindi siamo belli entrambi Settima domanda Vai Elenca Vai Settima domanda Elenca dei pregi Dei difetti Eh vabbè Quasi Sono solo difetti 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 I pregi Io non ne vedo neanche uno Ok Ah Possessivo Vai Possessivo Prima non manco era geloso Era proprio possessivo Cioè aiuto Però dillo Prima non era così Ora si è diventato così Ma forse Mamma mia di mezzo Ossessione Questo Tessardo Troppo Orgoglioso Mamma mia Di mezzo Paracusardo Chi ne ha più Ne metta Mi odia Tutto Però È tanto dolce Si sa emozionare Non pensavo Guarda E poi basta E basta Tocca a me Tocca a me Sì Allora Sono tenuta Voglio dirlo Prima di me Senti questa mammi Allora Lei Ah gelosa Non sei pure più gelosa Sì Non quanto a te Però Però per me Essere gelosi Io non lo farei passare Come un difetto È un pregio Essere gelosi Infatti Che gelosia va bene Ma tu sei possessiva C'è proprio un'altra cosa Può alzare Ok 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 Allora Per me Appuole tu sei molto testardo E non finirei No Ok Quindi C'è 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 Testarda Poi Ha un difetto Quello più grande Autostima Dov'è Dov'è l'autostima Tipo a Firenze Non esiste Non la trovo più Lei è una ragazza Che non ha proprio Autostima Di se stessa C'è zero Per lei Per lei è tipo Bruttissima Non ha nulla È brutta Per lei Invece io Ogni giorno Le faccio capire Le faccio capire Che non è così Ok Può bastare Può bastare Perché questo è un difetto Proprio Che va a prendere Tutti i difetti Del mondo Ok Ho il telefono Aspetta 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 un attimo Ok 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 Basta Oh Mi togli il telefono Mi togli il telefono Un bambino Ottava domanda Ottesima Chi è il più disordinato? Forse io Forse entrambi Che dici? No entrambi Sì sì Io vi auguro di La camera in hotel ieri La camera in hotel ieri Era qualcosa di schifoso Di vergognoso McDonald's Cioè veramente Quella stanza Prima che noi entrassimo Era molto carina Era molto carina Molto spaziosa Siamo entrati noi Cinque minuti dopo Era tipo Diss... Una cosa Orribile Assurdo Passima domanda Cosa? Ok Una domanda Cosa avreste voluto fare Da grandi? Tipo da piccoli Un sogno Che avevo fatto i ragazzi Sì L'astronauta E l'avvocato Tu? Io Troppe cose Tipo? Tipo Vabbè La ballerina L'attrice Poi l'avvocato Il medico La rompipalle Ci sei riuscito La rompipalle Sì Ci riesco benissimo Hai visto? È mio Vedi Devi finire il video Ok ragazzi Questo video Finisce qui Ehm Niente Ci siamo divertiti Tutti quanti Sia io Che la sua Mila E niente Vi vogliamo un sacco di bene Alla prossima Ciao 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 Ciao